Quasi 300 persone che intascavano il reddito di cittadinanza senza averne diritto perché destinatari di misure cautelari di vario genere che si trovavano agli arresti domiciliari o addirittura in carcere. Nuovo blitz della Guardia di Finanza contro i furbetti del bonus. Sono 298 le persone finite nel mirino della procura di Napoli Nord nell'ambito di un'indagine condotta dalle fiamme gialle del gruppo di fratta maggiore in collaborazione con l'Inps di Afragola e riferita al periodo che va da settembre dello scorso anno ad oggi. Un controllo a tappeto eseguito con il coordinamento della procura di Napoli Nord nei confronti dei soggetti sottoposti a misure cautelarie quali la legge non consente di percepire il reddito di cittadinanza. 298 i casi regolari riscontrati. In buona sostanza un terzo delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari nell'area Nord di Napoli è risultato a godere del beneficio. In sinergia con l'Inps si è quindi provveduto alla revoca e a quantificare in 2 milioni e mezzo di euro il danno per le casse dello Stato. Scoperti poi anche casi di evasione da parte di 8 richiedenti che si sarebbero ricati presso i CAF nonostante si trovassero agli arresti domiciliari. Dalle indagini è emerso come almeno 8 dei circa 300 indagati siano addirittura evasi dagli arresti domiciliari per presentare istanza formale di richiesta del reddito. In un altro caso è stata recuperata la richiesta di una persona che nel momento in cui risultava aver presentato la domanda era in realtà detenuto nel carcere di Santa Maria Capoavetere.